Ancora disagi per i pendolari e i viaggiatori su rotaia. Domani in Lombardia treni a rischio. Nuovo sciopero, questa volta del personale di Trenitalia. A incrociare le braccia le organizzazioni sindacali Filt, CGL, Fit, CISL, Will Trasporti, UGL Ferrovieri, SML, Fast, Consal e Orsa Ferrovie. La protesta nazionale interesserà la giornata di venerdì dalle 9 alle 17. Lo sciopero, ricorda Trenitalia, in una nota potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di frecce, intercity e treni regionali. Inoltre gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima delle 9 e protrarsi oltre le 17. Tra le motivazioni dello stop è un peggioramento delle condizioni di lavoro sia di tutti i ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizie. A questi problemi, chiariscono i sindacati, si aggiunge la necessità di un adeguato piano di assunzioni e un maggiore equilibrio nella programmazione dei turni che tenga conto della conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata. Da affrontare poi, sempre secondo le sigle sindacali, anche il tema delle aggressioni del personale a bordo, treno e delle stazioni. Per quanto riguarda Trenord, invece, lo sciopero è stato proclamato dai sindacati USB, lavoro privato, SGB e Cube Trasporti. Le categorie pubbliche e private, sempre dalle ore 9 alle ore 17 di domani, potranno prendere parte alla protesta, sebbene le adesioni, ha precisato l'azienda del trasporto ferroviario, non sono state significative. Per questo non sono previste interruzioni della circolazione in Lombardia. Eventuali cancellazioni saranno comunque comunicate ai passeggeri in stazione sulla pagina internet ufficiale. Il capitolo nero dei trasporti non si concluderà comunque questo venerdì. Il prossimo, il 21 aprile, sarà la volta dello sciopero generale nazionale proclamato da Cube. A Milano sono a rischio i treni regionali e i mezzi di ATM, le corse delle metropolitane, gli autobus e i tram.